tempo di quaresima anno liturgico rito antico capitolo primo storia della quaresima chiamiamo quaresima quel periodo di preghiera e di penitenza durante il quale la chiesa prepara le anime a celebrare degnamente il mistero della redenzione la preghiera a tutti i fedeli anche i più ferventi essa offre questo tempo come ritiro annuale che loro offre l'occasione di riparare le negligenze passate e ravvivare la fiamma del loro zelo offre ai catecumeni come nei primi secoli l'istruzione e la preparazione alla fede battesimale richiama ai penitenti la gravità del peccato per eccitarli al pentimento e ai buoni propositi e promette loro il perdono del cuore di nostro signore nel 49esimo capitolo della sua regola san benedetto raccomanda ai suoi monaci che si applichino durante questo santo tempo a una preghiera accompagnata da lacrime siano esse del pentimento o dell'amore nella messa di ciascun giorno il cristiano a qualsiasi stato appartenga troverà le più belle formule di preghiere con le quali si rivolgerà a dio antiche spesso di 15 e più secoli si adattano sempre alle aspirazioni di ognuno e ai bisogni di tutti i tempi la penitenza la penitenza si esercita o meglio si esercitava principalmente mediante la pratica del digiuno le temporanee dispense concesse dal sovrano pontefice alcuni anni fa non costituiscono per noi una ragione sufficiente di sottacere un dovere così importante al quale fanno incessante allusione le orazioni di ogni messa di quaresima e di cui tutti debbono almeno conservare lo spirito qualora la durezza dei tempi che si attraversano o la gracilità della salute non ne permetterà l'osservanza in tutta la sua estensione e il suo rigore essa risale ai primi tempi del cristianesimo ed è anche anteriore la pratica del digiuno fu osservata dai profeti mosè ed elia i cui esempi ci saranno esposti il mercoledì della prima settimana di quaresima per 40 giorni e 40 notti fu osservata da nostro signore in modo assoluto senza prendere il minimo alimento e sebbene egli non abbia voluto farne un precetto che non sarebbe stato più suscettibile di dispense pure tenne a dichiarare che il digiuno spesso comandato da dio nell'antica legge sarebbe stato osservato anche dai figli della nuova legge un giorno i discepoli di giovanni si avvicinarono a gesù e gli dissero per quale motivo mentre noi e farisei digiuniamo spesso i tuoi discepoli non digiunano e gesù rispose loro come è possibile che gli amici dello sposo possano fare lutto finché lo sposo è con loro verranno poi i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno matteo 9 14 15 i primi cristiani si ricordarono di quelle parole di gesù e cominciarono molto presto a passare nel digiuno assoluto i tre giorni che per loro era uno solo del mistero della redenzione cioè dal giovedì santo al mattino di pasqua fin dal secondo e terzo secolo abbiamo la prova che in parecchie chiese si digiunava il venerdì e il sabato santo e santi reneo nella lettera al papa san vittore afferma che molte chiese d'oriente facevano la stessa cosa durante tutta la settimana santa il digiuno pasquale si estese poi nel quarto secolo fino a che la preparazione alla festa di pasqua attraverso un periodo di crescente aumento divenne di 40 giorni cioè quadragesima o quaresima la più antica menzione della quarantena in oriente si riscontra il canone quinto del concilio di nicea nel 325 il vescovo di tumuis serapione attesta a sua volta nel 331 che la quaresima era al suo tempo una pratica universale sia in oriente che in occidente i padri come sant'agostino discorso 210 dicono antichissima natale pratica e san leone discorso 6 arriva a pensare però a torto che risaliva ai tempi apostolici i primi a parlarci del digiuno quaresimale furono i padri e tra loro sant'ambrogio e san girolamo i sermoni di sant'agostino dimostrano che la quaresima cominciava sei domeniche prima di pasqua siccome la domenica non si digiunava non rimanevano che 34 giorni 36 col venerdì e sabato santo tuttavia la quaresima restava sempre una quarantena di preparazione alla solennità della pasqua difatti anche allora e come adesso non era il digiuno l'unico mezzo per prepararsi la pasqua sant'agostino insiste che al digiuno vada aggiunto il fervore della preghiera l'umiltà la rinuncia ai desideri meno buoni la generosità nell'elemosina il perdono delle offese e la pratica ad ogni opera di pietà e di carità della medesima durata consta in spagna nel settimo secolo nella gallia e a milano per sant'ambrogio il venerdì santo è la grande solennità del mondo la stessa festa di pasqua comprende il tridio della morte della sepoltura e della resurrezione di cristo lettera 23esima la domenica si interrompeva il digiuno ma non si abbandonava mai grazie alla liturgia il colore penitenziale anche san leone afferma che la quaresima è un periodo di 40 giorni che termina il giovedì santo alla sera e come sant'agostino dopo aver insistito sui vantaggi del digiuno corporale raccomanda energicamente l'esercizio della mortificazione della penitenza e soprattutto l'aborrimento del peccato e la pratica fervente delle opere buone e di tutte le virtù necessità della penitenza la necessità della penitenza è sempre attuale nell'epoca nostra di sensualità in cui sembra caduta in disuso la mortificazione corporale non crediamo sia inutile spiegare cristiani l'importanza e l'utilità del digiuno a favore di questa santa pratica stanno le divine scritture sia del vecchio sia del nuovo testamento anzi si può dire che vi raggiunge la testimonianza della tradizione di tutti i popoli infatti l'idea che l'uomo possa placare la divinità con opere di espigazione del suo corpo è costante presso tutti i popoli della terra e la troviamo in tutte le religioni anche le più lontane dalla purezza delle tradizioni patriarcali il precetto dell'astinenza il precetto cui furono sottoposti i nostri progenitori nel paradiso terrestre osservano san basilio san giovane crisostomo san girolamo e san gregorio magno era un precetto di astinenza e non per non aver essi rispettato a queste virtù precipitarono nell'abisso del male trascinando seco tutta la discendenza la vita di privazioni alla quale il re decaduto della creazione si vide condannato sulla terra che doveva produrgli solo triboli e spine giorno per giorno giustificò tale legge d'espiazione che il creatore impose alle membra ribelli dell'uomo peccatore fino all'epoca del diluvio i nostri antenati si sostentarono unicamente dei frutti della terra che ricavavano con sudato lavoro in seguito per supplire in qualche maniera all'indebolimento delle forze della natura dio permise che si nutrissero della carne degli animali ugualmente no è forse per ispirazione di dio cominciò a spremere il succo della vite e così un altro alimento venne a soccorrere la debolezza dell'uomo astinenza dalla carne e dal vino la natura del digiuno fu quindi determinata in base ai diversi elementi che servivano al sostentamento dell'uomo a principio dovette solo consistere nell'astinenza della carne degli animali essendo meno indispensabili alla vita tale l'alimento dono della condiscendenza di dio per molti secoli come anche oggi nelle chiese d'oriente erano proibite le uova e tutti i latticini per essere sostanze ricavate dagli animali e anche nelle chiese latine non erano permesse fino al diciannovesimo secolo se non in virtù di un annuale dispensa più o meno generale il rigore dell'astinenza della carne era tale che a principio non veniva sospesa neppure la domenica di quaresima quando invece si interrompeva il digiuno e quelli che erano dispensati dal digiunare durante la settimana rimanevano sempre tenuti a detta astinenza salvo una dispensa particolare nei primi secoli del cristianesimo il digiuno comprendeva anche l'astinenza dal vino lo afferma san cerillo di gerusalemme nella quarta catechesi san basilio prima omelia al popolo di antiochia teofilo d'alessandria eccetera ma questo rigore scomparve ben presto fra gli occidentali mentre durò più a lungo tra i cristiani d'oriente unico pasto da ultimo per essere completo il digiuno doveva limitare anche la misura dei cibi fino alla privazione dell'alimentazione ordinaria in tal senso non tollera che un solo pasto quotidiano ciò si deduce e risulta da tutta la pratica della chiesa sebbene molteplici modifiche vennero a prodursi di secolo in secolo nella disciplina della quaresima il pasto dopo i vespri la costumanza giudaica che nel vecchio testamento era di posticipare al tramonto del sole l'unico pasto consentito nei giorni di digiuno passò nella chiesa cristiana e fu seguita anche nei paesi occidentali ove venne conservata a lungo immutabile però dal nono secolo essa cominciò a mitigarsi lentamente nella chiesa latina come risulta a quell'epoca da un capitolare di teodolfo vescovo di orleans nel quale il prelato protesta contro coloro che si credono un diritto di pranzare all'ora di nona cioè tre ore dopo mezzogiorno ma il rilassamento a poco poco insensibilmente si estese infatti nel secolo successivo abbiamo la testimonianza del celebre ratier vescovo di verona il quale in un discorso sulla quaresima riconosceva ai fedeli la facoltà di rompere il digiuno dopo la nona si trovano ancora tracce di richiami e contestazioni dell'undicesimo secolo in un concilio di rowan che proibiva ai fedeli di pranzare prima che fosse cominciato in chiesa all'ufficio dei vespri terminata l'ora di nona ma si trova qui già all'uso di anticipare l'ora dei vespri per dar modo ai fedeli di consumare prima i loro pasti fino a quasi quest'epoca era rimasta infatti in vigore la costumanza di non celebrare la messa nei giorni di digiuno se non prima di aver cantato l'ufficio di nona che aveva iniziato alle tre pomeridiane e di non cantare i vespri se non dopo il tramonto del sole ma si andava sempre più mitigandosi la disciplina del digiuno mai la chiesa credete giusto di invertire l'ordine delle ore che risaliva alla più remota antichità successivamente essa anticipò prima i vespri poi la messa infine nona per far sì che i vespri terminassero prima di mezzogiorno dato che l'uso aveva autorizzato i fedeli a fare i loro pasti a metà del giorno il pasto dopo nona sappiamo da un passo di ugo di san vittore che nel dodicesimo secolo l'uso di rompere il digiuno all'ora di nona era diventato generale dalla regola di sant'agostino pratica che fu consacrata nel tredicesimo secolo dall'insegnamento dei teologi scolastici alessandro di ales nella sua somma lo insegna formalmente e san tommaso d'aquino non è meno esplicito il pasto a mezzogiorno ma questa mitigazione doveva ancora allargarsi perché sappiamo che alla fine del medesimo dodicesimo secolo il teologo riccardo di middleton celebri francescano insegnava non doversi considerare violatore del digiuno chi pranzava all'ora di sesta cioè a mezzogiorno perché dice che quest'uso è ormai prevalso in moltissimi luoghi e l'ora nella quale si può mangiare non è così essenziale al digiuno quanto l'unicità del pasto nel quattordicesimo secolo san c con una pratica è un insegnamento formale l'opinione di riccardo di middleton citeremo a testimonianza il famoso teologo durando di sant porcain domenicano vescovo di meux il quale senza alcuna difficoltà fissa all'ora di mezzogiorno il pasto dei giorni di digiuno perché questa è dice la pratica del papa dei cardinali e anche dei religiosi non sorprenderà più quindi il vedere di vedere tale insegnamento sostenuto nel quindicesimo secolo dai più gravi autori come sant'antonio stefano poncher vescovo di parigi il cardinal gaetano eccetera in vano alessandro di ales e san tommaso cercarono di riportare all'ora di nona la cessazione del digiuno furono gli ultimi scogli da superare poi l'attuale disciplina si impose per così dire fin dai loro tempi la colazione a causa d'essere stata anticipata l'ora del pranzo il digiuno che consiste essenzialmente nel mangiare un unico pasto era diventato difficile a praticarsi a motivo del lungo intervallo di tempo fra un mezzogiorno e l'altro per cui bisogna venire incontro ancora una volta all'umana debolezza attualizzando la cosiddetta colazione l'origine di questo uso è pure antichissima e deriva dalle costumanze monastiche la regola di san benedetto prescriveva una quantità di altri digiuni oltre a quello della quaresima ecclesiastica ma ne temperava il rigore permettendo un pasto all'ora di nona il che rendeva quei digiuni meno penosi di quello della quaresima perché a questo erano tenuti tutti i fedeli secolari e religiosi fino al tramonto del sole peraltro siccome i monaci dovevano sostenere le dure fatiche dei campi nell'estate nell'autunno quando i digiuni fino all'ora di nona erano così frequenti da diventare giornalieri a partire dal 14 settembre gli abati usando una facoltà contemplata nella regola permisero ai religiosi di bere verso sera un bicchiere di vino prima di compieta per ristorare le forze stanche delle fatiche del giorno tale ristoro si prendeva in comune mentre si faceva la lettura della sera chiamata conferenza in latino collazio e che consisteva per lo più nel leggere le famose conferenze di cassiano da qui derivò la parola colazione data a quel piccolo sollievo del digiuno monastico nel nono secolo l'assemblea di acquisgrana 817 estende ugualmente tale facoltà al digiuno della quaresima per la straordinaria fatica che sostenevano i monaci nell'assolvere ai divini uffici in questo sacro tempo ma in seguito si accorsero che il solo uso di quella bevanda poteva nuocere alla salute se non vi si aggiungeva qualche cosa di solido e dal quattordicesimo al quindicesimo secolo si introdusse la consuetudine di distribuire ai religiosi un pezzettino di pane che mangiavano nella colazione della sera quando bevevano quel bicchiere di vino naturalmente introdottesi nei chiostri mitigazioni del genere sul digiuno primitivo si estesero ben presto anche a vantaggio dei secolari il che avvenne a poco a poco con la facoltà di bere fuori dell'unico pasto e nel tredicesimo secolo sant'ommaso stesso studiando il caso se il bere rompesse il digiuno concluse negativamente ma continuò ad ammettere che invece lo rompeva l'aggiunta di qualsiasi nutrimento solido quando alla fine del tredicesimo secolo e durante il quattordicesimo fu definitivamente anticipato il pranzo a mezzogiorno non poteva più bastare alla sera una semplice bevuta di vino a reggere le forze del corpo di conseguenza si introdusse prima nei chiostri e poi fuori la consuetudine di prendere oltre a quella bevanda pane verdura e frutta sempre a condizione d'usare di quegli alimenti con tale moderazione da non trasformare mai la colazione in un secondo pasto astinenza dai latticini tali furono le conquiste che ottennero sull'antica osservanza del digiuno sia il rilassamento del primitivo fervore sia l'inderbollimento generale delle forze fisiche presso i popoli occidentali ma non sono questi gli unici temperamenti che dobbiamo rilevare per molti secoli l'astinenza della carne comprendeva la proibizione di tutto ciò che proveniva dal regno animale escluso il pesce per diverse misteriose ragioni fondate sulle sacre scritture i latticini di ogni sorta furono per molto tempo proibiti a roma fino a pochi anni fa erano proibiti il cacio e il burro tutti i giorni nei quali non si poteva mangiare carni l'uso dei latticini in quaresima si andò affermando dal nono secolo in poi nell'europa occidentale specialmente in germania e nelle regioni settentrionali in vano cercò di eliminarlo nell'undicesimo secolo il concilio di chedlinburg di modo che dopo aver legittimata la pratica mediante dispense temporanee che ottenevano dei sommi pontifici quelle chiese finirono per usufruirne pacificamente per l'inveterata consuetudine le chiese di francia mantenono l'antico rigore fino al sedicesimo secolo anzi sembrò non cedere del tutto fino al diciassettesimo secolo tanto che per riparare alla breccia fatta l'antica disciplina e quasi a compensare con un atto pio e solenne rilassamento circa l'articolo dei latticini da allora in poi tutte le parrocchie di parigi alle quali si univano i domenicani i francescani i carmelitani e gli agostiniani si recavano in processione alla chiesa di notre dam la domenica di quinquagesima nello stesso giorno il capitolo metropolitano col clero delle quattro parrocchie dipendenti andava a fare una stazione nel cortile della curia e a cantare un antifona davanti alla reliquia della vera croce che si esponeva nella cappella santa queste belle tradizioni aventi lo scopo di tenere impressa nelle memorie l'antica disciplina durarono fino alla rivoluzione astinenza dalle uova la facoltà di usare latticini non comprendeva l'uso delle uova in quaresima su questo punto rimase per molto tempo in vigore l'antica norma di concedere questo cibo solo se compreso nella dispensa che si solleva dare annualmente fino al diciannovesimo secolo a roma non si potevano mangiare le uova nei giorni in cui non era stata concessa la dispensa dell'uso della carne altrove le uova in certi giorni erano permesse in altri no specie durante la settimana santa mentre l'attuale disciplina non conosce più tale restrizioni se nonché la chiesa sempre preoccupata del bene spirituale dei suoi figli e nel loro interesse ha cercato di mantenere in vigore tutto ciò che è stato possibile delle osservanze salutari che li devono aiutare a soddisfare la giustizia divina in virtù di questo principio benedetto quattordicesimo allarmato fin dal suo tempo dall'estrema facilità con cui si moltiplicavano dappertutto le dispense circa l'astinenza con una solenne costituzione in data 10 giugno 1745 rinnovò la proibizione oggi nuovamente abolita di mangiare nello stesso pasto pesce e carne nei giorni di digiuno enciclica di benedetto quattordicesimo fin dal primo anno del suo pontificato il 30 maggio 1741 lo stesso pontefice indirizzò una lettera enciclica a tutti i vescovi del mondo cattolico esprimendo il suo vivo dolore nel constatare il rilassamento che si introduceva ovunque con indiscrete e ingiustificate dispense l'osservanza della quaresima diceva il pontefice è il vincolo della nostra milizia con quella ci distinguiamo dai nemici della croce di gesù cristo con quella allontaniamo i flagelli dell'ira divina con quella protetti dal soccorso celeste durante il giorno ci fortifichiamo contro i principi delle tenebre se ci abbandoniamo a tale rilassamento è tutto a detrimento della gloria di dio a disonore della religione cattolica a pericolo per le anime cristiane né si deve dubitare che tale negligenza non possa divenire sorgente di sventure per i popoli di rovine nei pubblici affari e di disgrazie nelle cose private sono passati due secoli dal solenne monito del pontefice ma purtroppo quel rilassamento che gli volle frenare andò sempre più crescendo nelle nostre città quanti cristiani si possono contare fedeli all'osservanza quaresimale ora dove ci condurrà questa mollezza che aumenta senza limiti se non al decadimento universale dei costumi e perciò alla sconvolgimento della società già le dolorose predizioni di benedetto quattordicesimo si sono visibilmente avverate le nazioni che conobbero l'idea dell'espiazione sfidano la collera di dio per loro non resta altra sorte che la dissoluzione o la conquista per ristabilire l'osservanza domenicale in seno alle popolazioni cristiane asservite all'amore del denaro e degli affari sono stati compiuti coraggiosi sforzi coronati da insperati successi chissà che il braccio del signore alzato per cuoterci non s'arresti alla vista di un popolo che comincia a ricordarsi della casa di dio e del suo culto dobbiamo sperarlo ma questa nostra speranza sarà più solida quando vedremo i cristiani della nostra società rammollita e degenerata rientrare come gli abitanti di ninive nella via da tempo abbandonata dell'espiazione e della penitenza le prime dispense vi prendiamo ora la narrazione storica e segnaliamo ancora alcuni tratti della fedeltà degli antichi cristiani alle sante osservanze della quaresima non sarà qui fuori proposito richiamare la formalità delle prime dispense il cui ricordo è conservato negli annali della chiesa vi si attingerà un salutare insegnamento ai fedeli di braga portogallo nel tredicesimo secolo l'arcivesco di braga fece ricorso al romano pontefice allora innocenzo terzo per fargli presente che la maggior parte del suo popolo era stato costretto a mangiare carne durante la quaresima a causa ad una carestia che aveva privata la provincia di tutte le ordinarie provvigioni il prelato chiedeva al papa quale riparazione poteva imporre ai fedeli per questa violazione forzata dall'astinenza quaresimale inoltre consultava il pontefice sulla condotta da tenere riguardo ai malati che chiedevano la dispensa per l'uso degli alimenti grassi la risposta di innocenzo terzo che è inserita nel corpo del diritto sul digiuno è piena di moderazione di carità come era da tendersi ma da questo fatto noi comprendiamo che era tale allora rispetto della legge generale della quaresima da riconoscere che solo l'autorità del sommo pontefice poteva sciogliere i fedeli i secoli successivi non intesero diversamente il caso delle dispense al re venceslao venceslao reo re di boemia colpito da un'infermità che gli rendeva nociva la salute e l'alimentazione quaresimale si rivolse nel 1297 a bonifacio ottavo per ottenere il permesso di mangiare carne il papa incaricò due abati dell'ordine dei cistercensi per informarlo sullo stato reale della salute del monarca e dietro loro favorevole rapporto accordò la dispensa richiesta ma ingiungendo le seguenti condizioni si sincerassero che il re non si fosse imposto con voto di digiunare a vita durante la quaresima i venerdì i sabati e la vigilia di san mattia erano esclusi dalla dispensa finalmente il re doveva prender cibo privatamente e farlo con sobrietà ai re di francia nel secolo quattordicesimo abbiamo due brevi di dispensa indirizzati da clemente sesto nel 1351 a giovanni re di francia e dalla regina sua sposa nel primo il papa ha avuto riguardo al fatto che il re durante le guerre di cui si occupa si trova spesso in luoghi dove raro il pesce concede al suo confessore il potere di permettere a lui e al suo seguito l'uso della carne fatta riserva però dell'intera quaresima dei venerdì e di certi vigili dell'anno assodato inoltre che né il re nei suoi si fossero legati con voto all'astinenza per tutta la vita col secondo breve clemente sesto rispondendo alla domanda che gli era stata presentata dal re giovanni per essere presentato dal digiuno incarica ancora il confessore del monarca e coloro che gli succederanno in quell'ufficio di dispensarlo insieme alla regina dall'obbligo del digiuno dopo aver consultato i medici alcuni anni più tardi nel 1376 gregorio nono emanava un altro breve in favore del re di francia carlo quinto e della regina giovanna sua sposa col quale delegava al loro confessore il potere d'accordare l'uso delle uova e dei latticini durante la quaresima sentito il parere dei medici e gravata nella loro coscienza come anche quella del confessore che ne avrebbe risposto davanti a dio il permesso si estendeva ai cuochi e ai camerieri ma solo per assaggiare le vivande a giacomo terzo re di scozia nel quindicesimo secolo continua a fornirci esempi di simili ricorsi alla sede apostolica per la dispensa delle osservanze quaresimali citiamo particolarmente il breve che esistò quarto nel 1483 indirizzò a giacomo re di scozia col quale permette a questo principe di fare uso della carne nei giorni d'astinenza sempre col consiglio del confessore nel sedicesimo secolo vediamo giulio secondo accordare una simile facoltà a giovanni re di danimarca e dalla regina cristina sua consorte e qualche anno più tardi clemente settimo elargiva il medesimo privilegio all'imperatore carlo quinto e poi in seguito ad enrico secondo di navarra e dalla regina margherita sua sposa tale era la gravità con la quale si procedeva ancora qualche secolo fa a sciogliere gli stessi principi da un obbligo che è quanto più di universale e di più sacro al cristianesimo da questo si può giudicare il cammino seguito dalla moderna società nella via del rilassamento dell'indifferenza si paregonino quelle popolazioni che per il timore di dio e la nobile idea dell'espiazione si ponevano tutti gli anni così lunghe rigide privazioni con la nostra tiepida e rammolita generazione il cui sensualismo della vita va sempre più estinguendo il senso del male che si commette così facilmente che così prontamente viene perdonato e così debolmente riparato dove sono ara le gioie dei nostri padri nella festa di pasqua quando dopo una privazione di 40 giorni riprendevano cibi più nutrienti e graditi che si erano interdetti durante questo lungo periodo con quale attrattiva con quale serenità di coscienza essi tornavano alle abitudini di una vita più facile che avevano sospesa per affliggere l'anima nel raccoglimento nella separazione dal mondo e nella penitenza ciò induce ad aggiungere ancora una parola con l'intento di aiutare il lettore cattolico a ben rilevare l'aspetto della cristianità nei periodi della fede durante il tempo della quaresima vacanza dei tribunali immaginiamoci dunque un tempo in cui non solo erano interdetti dalle pubbliche autorità i divertimenti e gli spettacoli ma rimanevano vacanti anche i tribunali affinché non fosse turbata quella pace quel silenzio delle passioni così favorevoli al peccatore per approfondire le piaghe della sua anima e prepararla a riconciliarsi con dio fin dal 380 graziano e teodosio avevano dettato una legge che ordinava i giudici di soprassedere e tutte le procedure e distanze 40 giorni prima di pasqua il codice teodosiano contiene parecchie altre disposizioni analoghe e sappiamo che i concili di francia ancora nel nono secolo si rivolsero ai re carolingi per reclamare l'applicazione di quella misura che era stata sanzionata dai canoni e raccomandata dai padri della chiesa concilio di meaux dell'ottocento 45 la legge lazione d'occidente ha lasciato cadere da molto tempo quelle cristianissime tradizioni mentre constatiamo a nostra umiliazione che esse sono tuttora rispettate dei turchi i quali sospendono ogni azione giudiziaria durante i 30 giorni del ramadan divieto della caccia la quaresima fu per molto tempo considerata incompatibile con l'esercizio della caccia a motivo della dissipazione del tumulto che porta con sé nel nono secolo durante questo sacro tempo fu interdetta dal papa san nicolò primo e bulgari che si erano riconvertiti al cristianesimo e anche nel tredicesimo secolo san raimondo di pennafort nella sua somma dei casi penitenziali insegna che non si può durante la quaresima senza commettere peccato esercitare la caccia rumorosa e col concorso dei cani dei falchi tale ordinanza è fra quelle cadute in disuso ma san carlo la riportò in vigore nella provincia di milano in uno dei suoi concili del resto non avremo più da meravigliarci nel vedere interdetta la caccia durante la quaresima quando sappiamo che nei secoli passati del cristianesimo anche la guerra cessava le sue ostilità se era necessaria al sollievo e al legittimo interesse delle nazioni nel quarto secolo costantino aveva ordinato la cessazione delle operazioni militari i venerdì e le domeniche in segno di omaggio a Gesù Cristo che in tali giorni i patì e risuscitò e per non distogliere i cristiani dal raccoglimento che si richiede per celebrare quei misteri nel nonno secolo la disciplina ecclesiastica d'occidente esigeva universalmente la sospensione delle armi durante l'intera quaresima eccetto il caso di necessità come risulta dagli atti dell'assemblea di compiegne nell'833 e dai concili di meaux e da quisgrana della stessa epoca le istruzioni del papa san nicolò primo ai bulgari esprimono lo stesso pensiero e da una lettera di san gregorio settimo a desiderio abate di monte cassino consta che tale norma era ancora rispettata nell'undicesimo secolo la vediamo ancora osservata fino al dodicesimo secolo in inghilterra come ci informa guglielmo di malmesbury da due armate schierate di fronte l'una dell'imperatrice matilde contessa d'angio figlia del re enrico l'altra del re stefano conte di boulogne che nel 1143 stavano per cozzare a causa della successione alla corona la tregua di dio è nota a tutti i nostri lettori la mirabile istituzione della tregua di dio per mezzo della quale la chiesa nell'undicesimo secolo riuscì ad arrestare in tutta l'europa lo spargimento del sangue con sospendere l'uso delle armi quattro giorni ogni settimana dal mercoledì sera fino al lunedì mattina per tutta la durata dell'anno tale regolamento sanzionato dall'autorità dei papi dei concili con concorso di tutti i principi principi cristiani non era che l'estensione ad ogni settimana dell'anno di quella disciplina in virtù della quale rimaneva sospesa in quaresima ogni azione militare il santo re d'inghilterra edoardo il confessore migliorò ancora questa si preziosa istituzione emanando una legge che fu confermata dal suo successore guglielmo il conquistatore e in merito alla quale la tregua di dio doveva essere inviolabilmente osservata dall'apertura dell'avvento fino all'ottava dell'epifania dalla settuagesima fino all'ottava di pasqua e dall'ascensione fino all'ottava di pentecoste in più tutti i giorni delle quattro tempora le vigili di tutte le feste e finalmente ogni settimana nell'intervallo fra il sabato dopo nona e il lunedì mattina urbano secondo nel concilio di clermont 1095 dopo aver regolato tutto ciò che concerneva la spedizione della crociata intervenne anche con la sua apostolica autorità ad estendere la tregua di dio prendendo a base la sospensione delle armi osservata durante la quaresima e stabilì con un decreto che fu rinnovato nel concilio tenuto a ron l'anno appresso che dovevano rimanere interdette tutte le azioni di guerra dal mercoledì delle ceneri fino al lunedì successivo all'ottava di pentecoste e in tutte le vigili e feste della santa vergine e degli apostoli tutto senza pregiudicare quanto stabilito in precedenza per ogni settimana cioè dal mercoledì sera fino al lunedì mattina il precetto della continenza così la società cristiana testimoniava il suo rispetto verso le tante osservanze della quaresima e prendeva dall'anno liturgico le sue stagioni e le sue feste per inserirvi le sue più preziosi istituzioni anche la vita privata ne risentiva la salutare influenza e l'uomo vatingeva ogni anno un rinnovamento di forze per combattere gli istinti sessuali e risollevare la dignità della propria anima mettendo a freno l'attrattiva del piacere per molti secoli si richiese dagli sposi la continenza in tutto il corso della santa quaresima e la chiesa nel messale missa pro sponso et sponso ha conservato la raccomandazione di questa salutare pratica usanza delle chiese d'oriente interrompiamo qui l'esposizione storica della disciplina quaresimale con dispiacere di aver appena sfiorato una materia così interessante avremmo voluto fra l'altro dilungarci sulle usanze delle chiese d'oriente che meglio di noi hanno conservato a rigore dei primi secoli del cristianesimo ma ce ne manca assolutamente lo spazio ci limiteremo perciò ad alcuni sommari dettagli in altra parte della nostra opera il lettore ha potuto osservare che la domenica che noi chiamiamo di settuagesima presso i greci è chiamata prosfonesima per annunciare imminente l'apertura del digiuno quaresimale il lunedì appresso viene contato per il primo giorno della seguente settimana chiamata apocreos dal nome della domenica con la quale essa termina e che corrisponde alla nostra sessagesima la parola apocreos è un avvertimento per la chiesa greca che fra poco si dovrà sospendere l'uso della carne il lunedì seguente apre la settimana chiamata tirofagia la quale termina con la domenica che ha questo nome cioè la nostra quinquagesima durante questa intera settimana non sono permessi latticini finalmente lunedì che segue è il primo giorno della prima settimana di quaresima il cui digiuno comincia fin da questo lunedì in tutto il suo rigore a differenza dei latini che lo aprono il mercoledì durante tutto il periodo della quaresima propriamente detta i latticini le uova e anche il pesce sono proibiti l'unico nutrimento possibile con il pane sono i legumi il miele e per chi abita vicino al mare le diverse conchiglie che esso fornisce loro l'uso dei vini per tanto tempo proibito nei giorni di digiuno ha finito per introdursi anche in oriente come pure la dispensa di mangiare pesce il giorno dell'annunciazione e la domenica delle palme oltre poi la quaresima di preparazione alla festa di pasqua i greci ne celebrano ancora altre tre nel resto dell'anno quella che chiamano degli apostoli che va dall'ottava di pentecoste fino alla festa dei santissimi pietro e paolo quella della vergine maria che comincia col primo agosto e finisce con la vigilia dell'assunta e finalmente la quaresima di preparazione al natale che dura 40 giorni interi le privazioni che i greci osservano durante queste tre quaresime sono simili a quelle della grande quaresima però non così rigorose le altre nazioni cristiane dell'oriente eppure celebrano diverse quaresime e con un'austorità anche maggiore di quella osservata dei greci ma tutti questi particolari ci porterebbero troppo lontani perciò concludiamo qui tutto quello che dovevamo dire della quaresima dal punto di vista storico per passare ad esporre i misteri che questo sacro tempo contiene